Come al solito parlerò al femminile perché mi rivolgo a te anima e questa meditazione vuole entrare nel ricordo di chi sei nel profondo perché il ricordo di chi sei è nascosto nella tua ombra, con la parte di te che fai fatica ad abbracciare, che fai fatica ad accettare, nasconde la tua autenticità, la tua verità e quindi ti puoi istragliare o puoi trovare un posto a sedere tranquilla e ti dedichi 10-15 minuti solo per te e quando sei seduta, comoda o sdraiata, porti le tue mani sulla tua pancia e inizi questo contatto profondo con gli occhi chiusi, con il tuo corpo, il corpo così intelligente che contiene tutto te stessa, tutto ciò che non è visibile agli occhi, inizi a respirare profondamente con la tua pancia e ad entrare dentro al tuo cervello, al tuo primo cervello pancia e tra le vie nascoste del tuo intestino, il tuo stomaco, le memorie più antiche si nascondono, si nascondono agli occhi e all'anima. Ti chiedo di entrare in contatto con ciò che ti porta dentro di te e respirare. Ti ricordo che non c'è nulla da cambiare, nulla da trasformare. Questo momento serve a te per entrare nei meandri dell'ombra più nascosta, quella che non vedi, quella che ti appartiene, quella che sei sempre tu e respiri. Lasci che questo contatto accada. E quale miglior momento per sentire le tue emozioni più profonde? la tua paura di ciò che sarà, di ciò che non puoi controllare e respiri e provi a lasciare il controllo di ciò che trattieni ogni giorno, di ciò che rifiuti e metti da parte di te ogni giorno. è accaduto così tante volte nella tua vita e adesso hai l'opportunità di sentirti, di entrare. ed è possibile che si risvegli questa paura ancestrale che nel momento presente connette tutti gli esseri umani a un collettivo comune. la paura di ciò che non appartiene al tuo controllo, di ciò che ti chiede la resa totale a ciò che sei. ti chiedo di entrare e sentire, se puoi, quello che nascondi da sempre. ed è possibile che impaiano immagini o sensazioni, rimani presente con il contatto. resti qui, lasciando che tutto ciò che contieni si manifesti come emozioni, come sensazioni nel tuo cuore, nel tuo corpo e nella tua pancia. e respiri, sentendoti profondamente legata al flusso che esiste dentro di te e che vuole far emergere, in quella stanza oscura della tua pancia, ciò che contieni e nascondi anche a te stessa. e non c'è nulla da cambiare, nulla da fare, solamente rimanere presente, fino a quando quella porta che contiene tutto il tuo segreto si apre davanti a te e dentro puoi scoprire ed esplorare il tuo buio interiore. e respiri e sei davanti alla tua porta e quella porta si apre, inevitabilmente si apre. e finalmente puoi esplorare quell'ombra che hai dentro di te. ed è possibile che questa stanza buia e segreta sia molto profonda o molto grande, ma può essere anche che sia piccola. osservala. da quella soglia puoi vedere cosa c'è dentro. è possibile che i tuoi occhi vedano solo il buio e che dovrai usare i tuoi sensi più profondi che ti appartengono per natura. inizia a fare qualche passo dentro a questa stanza buia, inizia ad esplorare ciò che contieni e che nascondi a te stessa. è possibile che la paura emerga perché lì non puoi controllare, non puoi controllare nulla. e ti devi arrendere per forza al tuo buio e respiri nulla da cambiare. e ad ogni passo, ogni respiro, ogni sensazione la fai tua. e ad ogni passo, ogni respiro, esplori e sveli una parte di te. non la vuoi cambiare, la vuoi solo osservare con la tua presenza, sentendo il tuo corpo in quel contatto con la tua pancia. respiri respiro e asci pretty e incomincia a sentire che quell'ombra non è poi così scura, né diabolica né demoniaca. Inizia a sentire che quell'ombra ti appartiene e ti svela i tuoi segreti più profondi, più autentici, più veri. Cosa senti quando non puoi vedere con gli occhi fisici? Che cosa percepisci quando non puoi sentire nella materia e nella luce? Ed è proprio qui che sviluppi tutti i tuoi talenti e i tuoi doni naturali. E incominci ad espanderti dentro questa stanza buia. Cosa si espande di te se non la tua luce e la tua energia? Ed è possibile che incominci a sentire delle contrazioni nella tua pancia, nel tuo ventre. Quasi come se stessi partorendo. Nulla è da cambiare, rimani presente, senza giudizio, senza opinione, senza niente. Resta lì, dove sei. Lascia che l'alchimia accada dentro di te. E se puoi aprirti a tutto questo, se puoi aprirti alla tua ombra, alle tue paure, alle tue parti più nascoste, fallo adesso. Sei al sicuro, sei in contatto con te. Nulla può accadere. Lascia che si apra la tua possibilità di integrazione. E respiri. E in questo momento non controlli nulla. Ma ci sei. Ci sei per te. E se ci sei per te, l'ombra è al tuo servizio, così come la luce. E ti chiedo semplicemente di guardarti con altri occhi. Magari occhi di compassione e di amorevolezza. Cercando di sentire quanto in realtà è delicata con la parte che si nasconde. E quanto desidera essere semplicemente così com'è. Senza essere cambiata. Senza essere giudicata. Cosa ti chiede quella parte? Prova a sentire. Rimanendo con lei qualche istante. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.